Ragazzi buongiorno, oggi è un grande giorno perché oggi andiamo a prendere l'iPhone 11 Pro o Pro Max, devo vedere All'unieuro, nel mentre qui stanno costruendo una casa, va bene, tanto per farvi capire Questa è la situa Non so cosa si sentirà ma comunque Prendiamone il mentre la bicicletta In due giorni hanno fatto il bordello, c'era il marciapiede con le aiole piene con l'erbetta, tutto bello bello In due giorni sono riusciti a scavare 4 metri sotto terra, va bene, a me sta benissimo Poi, opinioni Comunque dicevo, oggi andiamo a prendere il nuovo iPhone 11 Pro o Pro Max, adesso vediamo lì cosa fare in realtà Perché, cioè, solo indecisione in realtà L'11 Pro normale, ha lo schermo a 5-8 pollici, quello Max ce l'ha da 6.5 Quindi, 6.5 è tanto, però è figo ragazzi Tra l'altro sto registrando con il DJI Osmo Pocket Adesso non so perché ho registrato il video ieri Però il tempo che lo monto arriva domani Non so se uscirà prima quello dell'Osmo O quello dell'iPhone, è tutto da vedere Comunque A breve usciranno tutti e due Bene, quindi ci vediamo all'1€ Bene ragazzi, siamo arrivati all'1€, adesso andiamo a prendere Un bellissimo iPhone Vediamo, vediamo Ragazzi, abbiamo l'iPhone nuovo Anzi, il mio primo iPhone Ve lo faccio vedere Se mi fate il costo del cuore Almeno 120 W ti sicuri Allora, abbiamo preso l'iPhone 11 Pro Perché il Max è troppo grande Cioè, è enorme Verde notte, adesso facciamo l'unboxing a casa Più Una stupenda cover Trasparente Quindi, adesso vediamo di non fare troppi danni E andiamo a casa ad unboxare Il nuovo iPhone 11 Pro Mi ho fatto vedere lo scontrino Tanto per completezza All'1€ l'ho preso 1.000 1.567€ Quindi, tanti Sì, tantissimi euro Tantissimi soldi Comunque, partiamo In realtà, io ho preso Prima i caricatori e tutti i cavi dell'iPhone E poi l'iPhone Quindi, vabbè Più che altro perché io sto registrando anche con la seconda telecamera Con l'S9 E Samsung, ovviamente E quindi Non sono abituato Con la Type-C Con la porta di carica Adesso devo cambiare tutte le porte Tutte le prese di casa A metterci La Lightning Perché iPhone non è in grado di mettere la Type-C Comunque, a parte questo Stiamo positivi Partiamo con l'unboxing Direi di questo pacchettino Che avevo da prima Lo apro sempre dal lato sbagliato È una dote Ok Apriamo, apriamo, apriamo Questo dovrebbe essere L'ho ordinato per il Black Friday Eccolo qua Batteria Questa qua È una Power Bank Scontatissimo Al Black Friday Che l'ho trovata Da 35 euro Da 30 euro a 15 Da 24.000 mAh Quindi è La batteria di un aereo Comunque L'ho trovata a pochissimi soldi Quindi l'ho presa In realtà io ho già La Mi Power Bank 2S A 10.000 Tutta in alluminio Stupenda Esteticamente stupenda Qualità non necessa Lasciamo da parte Qua c'è il cavetto Micro USB E qui c'è Il La Power Bank Che come vedete È enorme Però Per essere Dimensioni Per essere Da 24.000 mAh È Di dimensioni discrete Discrete Come direbbero I milanesi Buttiamo via Tutte le carte inutili Va bene Questa la proveremo Sicuramente La mettiamo un attimo Da parte E cominciamo con Le cose Apple Non ho mai avuto niente Di Apple in realtà Partiamo dal Low budget Cioè Low budget In realtà Ho preso questi tre cavetti Qui Questi due cavetti Un lightning USB da un metro Uno da due metri Uguale E il caricatore Il problema è che costano C'è tre Uno Due E tre 85 euro Ok Tutto originale Ok Tutto fatto bene Originale Figo E bellissimo Però 85 euro Di tre metri di cavo E un alimentatore Mi sembra eccessivo Comunque Stavolta ho voluto Fare le cose in grande Quindi Spriamo la scatolina Del Alimentatore Da 12 E vediamo cos'è Spero di averlo preso giusto Perché il commesso Non mi sembrava tanto convinto Comunque mi ha detto Si si prendi questo qua Dovrebbe andare bene Tutto Original Apple Stavolta ho voluto Con qualcosa Tutto originale Perché poi Non voglio problemi E poi figo Vedere la pagina Sembra subito Qualità Ok We are We are Dopo Cavetto 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 Sempre USB Normale A lightning Si apre così Eccolo qua Lightning E USB Lo lasciamo qua Mettiamo tutte le scatole Qua fuori Le valle E questo qui È lo stesso Identico Ma Da due metri In effetti È Parecchio più grande Si 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 Scista Buono Adesso passiamo Alla cover Come si ha Questa cover L'ho presa trasparente Questa cover qui iPhone 11 pro L'ho presa trasparente Per il semplice motivo Che ho preso La colorazione verde scura Per il semplice motivo Perché mi sembra Più bellina Cioè da vedere Come si apre Come si apre Come si apre Questa cosa Alla qua Ok Non c'è la cover Non c'è la cover Oh raga mi hanno fregato Non c'è la cover Non c'è Oh Dov'è la cover Vedi Molto resistente La commessa Mi aveva proposto La cover Quella lì Cellular line O altre marche Diciamo Per tutti i telefoni Io ho detto No no Voglio la roba originale Infatti ne ho Da pena Cavola È super resistente Sta roba Va bene Comunque Passiamo all'unboxing Il pezzo grosso Dell'unboxing Cioè l'iPhone Ok Devo dire Che è il mio primo iPhone Quindi sono l'ultimo emozionato Anzi Sono molto emozionato iPhone 11 Pro Vediamo Allora Pellicolina Il miglior momento Dell'unboxing Ok Vi giuro Sono veramente emozionato È il mio primo iPhone Uuu Va bene Non vedo l'ora di aprirla Proviamo Ok 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 ragazzi Stiamo Stiamo calmi Bene Questo è l'iPhone Colorazione Verde notte Le tre fotocamere Il flash Dopo Vabbè Questa qui Non so se avete già letto Ma è una lastra unica di vetro Satinato Tra l'altro Che è bellissimo Da toccare Con la mela lucida Che è una lastra unica di vetro Scavata Intagliata E fatta cose varie Per avere Un Sanno fatta una specie di basso rilevo In pratica le telecamere Non sono attaccate sopra Ma sono Come Rialzate Rispetto alla lastra unica Ok Alziamo il nuovo iPhone Wow Ma raga Sono contentissimo Sono veramente contento Apple Inc Ok capo Mettiamo qui Per non far troppi danni Designed by Apple In California Perfetto Perfetto Leggiamo le istruzioni Ma si leggiamole No Gli adesivi Apple Li vedo sempre in giro Non li ho mai avuti Vabbè Ciao Ok Ciao capo iPhone dirà il benvenuto Face ID È funzionata Va bene Ok Cosa che non so Ma Ci leggeremo dopo Sono in tutte le lingue L'italiano È la prima ragazzi Attenzione Colpo di scena No Voglio mettere tutto in ordine Come era prima Sì Così E qui C'è la pinzetta Per togliere La sim Immagina Sì Ok Va bene Faremo dopo Ok Qua gli adesivi Boh Li attaccheremo da qualche parte Ci pensiamo Cosa c'è nella confezione Vediamo Allora Queste qua Le cuffiette Le earpods Tra l'altro Io ho le Earpods 2 E anche Le nuove Earpods Pro Quindi Penso che Sono a posto Per le cuffiette Non le tiro neanche fuori In realtà Perché Detto sinceramente E qui il magico cavo Con alimentatore Plastichine Anche qui Due plastichine Addirittura sono Con mosse Alimentatore Alimentatore Con la presa Type C Non ho mai visto Alimentatore Con la Type C Sopra Di solito Sempre visti Con la USB Qui c'è il cavo Che è Lightning Da una parte Lightning da una parte E USB C Dall'altra Va bene Però adesso Ragazzi Dobbiamo passare Per forza All'iPhone Plastichine Anche qui La cosa bella Di questo vetro Qui è che Non si vede Niente All'impronte Stupendo Le tre fotocamere Sono veramente Ma veramente Belle Da vicino Prima accensione Prima accensione Apple Beh Esteticamente No stupendo Di più Hello Ok Save up to open Ok Sì capo Italiano Adesso passerò Tutta la sera A impostare Tutto Tutto l'impostabile Comunque Per concludere Questo stupendo video Da iPhone Contro Samsung Direi che È tutto Mi raccomando Seguitemi Su Instagram Link in descrizione Iscrivetevi Al canale Qui sotto Attivando anche La campanellina Se vi va Mettete un bel Mi piace Che tra poco Ci sarà Il giveaway Il contest Della cassa JPL Bluetooth Partybox 300 Vi lascio Qui sopra Qui sopra Il pollice Il video Sto iPhone Cosa me ne penso Adesso Vi farò sapere Su Instagram Come mi trovo Comunque Esteticamente È stupenda Anzi Proviamo una cosa Proviamo la fotocamera Che c'è la grandangolare Qui ragazzi I miei Uno per Due per Grande Cioè io prima Vedevo sta roba qua Adesso vedo Tantissima roba in più Quindi È ancora più Grandangolare Dell'Osmo Questo Osmo DJ Osmo Pocket Sto registrando Wow È enorme Guardate che roba Prende anche Il mio dito Che è sotto E la due per Ok iPhone È tutto stupendo Ma diverso Proviamo anche Il Face ID Che dicono Che sia Estremamente più veloce È velocissimo Ragazzi Tu prendi il telefono Lo alzi È già sblocco Prendi il telefono Lo alzi È già sbloccato Il telefono Oh mio dio Vediamo di nuovo Sono qui Ah già Questa inclinazione Lo prende Da dio Impressionante Direi Va bene ragazzi Quindi anche per oggi È tutto Seguitemi Dappertutto Come ho detto prima E ci vediamo Nel prossimo video iPhone 11 Pro Stupendo Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.